E salve a tutti ragazzi sono All Games One e oggi siamo tornati su un nuovissimo gioco Supercell è uscito già da circa una decina di giorni, due settimane circa più o meno e è un nuovo, come ho già detto è un nuovo gioco Supercell, si chiama Rush Wars purtroppo è disponibile solo in Canada, Nuova Zelanda e Australia ma non è un grandissimo problema perché grazie al facile aiuto di un VPN possiamo scaricarlo molto facilmente allora come possiamo vedere il mio municipio per chiamarlo così è a livello 4, elicottero al 3 e il mio clan, questo qua, il clan di Aydin non so se lo conoscete, un moderatore di Xyuder, davvero molto bravo e niente, queste sono le mie carte un poco le carte, in tutto sono 43, che l'ho appena scoperto, però GG allora, si dividono in 4 gruppi le truppe, che sono quelle carte che attaccano e sono queste qua tra cui ci sono anche, niente, un caspito non c'è poi abbiamo gli ice drop che si lanciano dal cielo, sostanzialmente allora il primo, questo qua, Arcade, una Fireball poi la Furia la Cura e poi altre carte che si vedranno quali sono poi abbiamo i Commanders che sono come su Clash of Clans ad esempio il Re Barbaro la Regina degli Arcieri la, come si chiama e io per esempio c'ho la Commander la Lady Granite come Commander e poi si dividono anche in Difesa dove sono tutte queste carte allora il gioco sostanzialmente è molto simile a Clash of Clans perché si può attaccare decidendo la propria squadra e si ha una miniera d'oro che bisogna difendere in questo qua in questo caso questa qui è la mia difesa che appunto devo andare a cambiare perché prima mentre non registravo ho trovato questo cannone che è davvero fortissimo quindi ce lo piazziamo là lo mettiamo al posto di niente mettiamo al posto di un carro armato perché fidatevi ne vale la pena e qua dietro ci mettiamo una pitcher che lanciano delle granate sono buone allora salviamo andiamo a casa qui abbiamo anche guardate là questa bomba che è un bonus del team cioè donando nel team si potranno avere degli oggetti bonus comunque le carte si sbloccano aprendo delle casse delle casse che come su clash royale miglioreranno man mano che saliamo di stelline cioè sto dicendo che miglioreranno i bauli miglioreranno man mano che saliremo di municipio e più abbiamo il municipio di livello alto più carte potremmo trovare sempre avevo provato questo attacco ma non mi era piaciuto quindi useremo ovviamente il commander poi come heart drop useremo l'arcade che l'ho migliorato tantissimo in livello 7 come truppe invece avremo uno sneaky ninja che è fortissimo poi metto un tank e due bazooka proviamo questo attacco perché sto sperimentando da poco queste nuove carte che ho trovato perché sono salito appunto da poco al livello del municipio 4 comunque il nostro commander avrà un'abilità speciale che si attiva con questo tasto vicino alla barra della sua vita e questo nemico non mi piace soprattutto cioè non mi piace perché non ha oro nelle casse questo già ce n'ha di più ed è molto più easy da fare allora mettiamo intanto lui là e lo sneaky ninja qua proviamo così per adesso intanto problemazzi vedete tempi un po' difficili diciamo sneaky ninja morirà tantissimo appena quella lì si avvicina mamma mia guarda questa è l'abilità speciale non è malissimo anzi è buona buona parecchio comunque faremo qualche partita e i bazooka fanno un sacco di danno e abbiamo fatto tre stelle ogni volta che raggiungerete cinque stelle potete aprire un baule potete trovare i baule comuni baule rari epici non so se esistono anche leggendari se abbiamo fatto le prime tre stelline dobbiamo fare altre due per aprire un baule cioè andiamo ad aprire riportiamo in vita completa la commander e questo è fortissimo quindi non l'attacco non ho visto neanche se aveva oro ma era bravo questo è un botto di oro ed è molto più facile di quello di prima quindi direi di eliminare subito quel bazookino usare la lady granade che si butta da sola perché malefico gioco delle mie palle lanciamo le granatine ok lo killiamo lo sneaky ninja ci ha lasciato purtroppo grande perdita attenzione però attenzione già una stella sarebbe perfetta da fare intanto lanciamo la ult anche qua una stella facciamo 26 di oro per noi e penso che ci faremo proprio una stella signori dopo ci faremo vedere quanto state di video non lo posso vedere porca di quella vacca apriamoci un baule e poi il video terminerà perché questo era un video un po' di introduzione di questo gioco questo è easy come i cani lo attacco non a oro e lo attacco giusto per attacco giusto per aprire un baulozzo insieme comunque la nostra commander non aveva vita purtroppo quindi e io non l'ho curata con le gemme quindi purtroppo non ce l'avremo in battaglia ovviamente comunque facciamo una stella e lo sneaky ninja ci lascia in due secondi e mezzo un bazooka ci muore ci rimane solo il carro armato che riesce a killare tutte le truppe ora si dirige cattivo cattivo verso l'altra torre dunque dovremmo già aver fatto una abbiamo fatto già una stella quindi potremmo già aprire un baule penso e ci faremmo una stella ci sta ci sta cioè in realtà no perché questo era scarso come la fame in Africa no era popoloso vabbè lasciamo stare la scarso come l'acqua in Africa c'è un common box un po' una schifezza abbiamo trovato due muri che non uso jetpack che non uso troopers che non uso ok direi che questo video di introduzione di rush wars può terminare qua ricordatevi di entrare nel can burgeriani il can di Aydin moderatore di xuter e noi ragazzi ci vediamo un prossimo video ciao ciao